Sorvolanti M.T. Ayers, oggi voglio recensirvi un film italiano uscito da pochissimo in sala, Freaks Out di Gabriele Maenetti. È un film da vedere assolutamente e subitissimo, ora vi spiego perché. Partiamo! Sono incredibilmente sorpreso e non si tratta solo della mia totale soddisfazione all'uscita dalla sala dopo la visione di Freaks Out, ma degli incoraggianti commenti allo scorso video in cui mi domandavo se continuare con i consigli di visione, ebbene al sondaggio seguito più della metà mi ha chiesto di continuare e un 30% di parlare di misteri come il video sull'uomo di Tau Red e di parlare ancora di Giappone e di come funzionano certi servizi come il video sul Telepass. Sappiate che cercherò di esaudire queste richieste, ora provo a fare anche una scommessa con voi. Vediamo se questa recensione riesce ad arrivare a mille visual nel primo mese. Nel caso di superamento o una live Q&A mi sa che mi tocca. Adesso torniamo in tema con questo Freaks Out. È il caso che vi dica che sono uscito dal cinema totalmente allibito e confuso dopo la visione. Non confuso e allibito come dopo la visione di Q&A, dovuta allo sconcerto per quello che avevano realizzato, ma per l'incredibile realizzazione tecnica, scenografica, costumistica, sonora, degli effetti speciali e della trama che un film italiano è riuscito a mostrare. Una realizzazione che non ha nulla da invidiare per qualità e spessore a produzioni come quelle coreane o addirittura delle grandi majors di Hollywood. Non sto esagerando. Sapete che sono ipercritico e vado a vedere anche le cose più piccole e insignificanti, ma io lo devo dire ad alta voce. Questo Freaks Out è una figata pazzesca. Capiamoci, non è perfetto, ha delle assurdità, ma è stupefacente come tutti i pezzi così diversi e strani siano riusciti ad incastrarsi benissimo per regalarmi questo mio stato di esaltazione mistica mentre ve ne parlo. Tutti ad esaltarsi per questo squid game coreano, per la casa di carta o per film sugli Avengers, ma questo di Mainetti non è da meno ed è nostro. Parla di noi italiani, del nostro passato, e lo fa in un modo semplice, diretto e senza filtri, quasi con cattiveria e nessuna reverenza verso la storia e i personaggi. Ora, non voglio che pensiate che sia il capolavoro che vincerà gli Oscar, manco li vedrà da lontano, e probabilmente, per valide ragioni, non solo legate al film in sé, ma vorrei farvi capire che quest'opera ci fa capire che il cinema italiano c'è, le maestranze sono capaci, gli seneggiatori in gamba li abbiamo, e insomma, gli anni in cui l'Italia produceva diversi film all'anno distribuiti nel resto del mondo non sono scomparsi. Crediamoci e continuiamo su questa strada. Purtroppo però, questa produzione è costata circa 12 milioni di euro, che nella sola prima settimana sembra però aver guadagnato solo un milione. Questo mi ha davvero deluso, considerando appunto quanto detto sopra. Ma a parte una critica ottima al Festival di Venezia, non mi pare che la produzione abbia spinto così tanto sulla promozione che avrebbe meritato un film così ben fatto. Io ho il mio pensiero che spesso la Rai, tra i produttori, si butti per fare ottimi prodotti e poi semplicemente si dimentichi di promuoverli, perché in realtà non è interessata a certi standard, facendo vedere quei numeri bassi che il pubblico non ha apprezzato, e continuano quindi col solito tram tram. Mio sentimento personale che lascia il tempo che trova, ma che una parte di me non riesce ad evitare. Fino ad ora mi sono permesso di parlare in maniera abbastanza astratta di questo film, raccontandovi più la mia parte emotiva che quella tecnica da recensore che tanto volete. Quindi adesso entriamo nel dettaglio e vediamo cosa funziona. La prima è sicuramente la presenza di effetti speciali di altissimo livello, che appena esce il Blu-ray voglio rivedere, coi fermi immagine da gran che erano dettagliati e indistinguibili dallo sfondo reale. Sono rimasto basito nel vedere le mani a sei dita che suonano il piano, e anche la realizzazione della scena finale di cui parlerò nell'area spoiler. Poi c'è il sottofondo musicale, o la canzone Bella Ciao, nel suo ennesimo arrangiamento moderno cantata dai partigiani, o le canzoni tedesche suonate e mixate in maniera particolari, ma anche questo argomento nell'area spoiler. Quindi parliamo degli attori tutti bravi, tutti nella parte e molto coinvolti, che riescono a trasmettere le emozioni nello stato emotivo e mentale in cui sono i loro personaggi. Si sono anche un po' ruspanti, bisogna dirlo, e spaesati in alcuni frangenti, ma sì, è solo perché non posso dargli soddisfazione in tutto, altrimenti mi si siedono lì e non migliorano. Anche la scenografia, che alterna diversi stili, proprio come la sceneggiatura, è ottima, e cattura lo spettatore aiutata tantissimo da costumi che rendono i personaggi unici e li estrapolano dal contesto. Insomma, come dicevo, tanta roba che non mi aspettavo. Ho parlato della cura nei dettagli e probabilmente pignoleria di maenetti per ottenere certi risultati, ma va detto che proprio questo suo lato ha portato anche conseguenze nefaste su certe scene. Un uso eccessivo del dolly fa venire letteralmente il mal di mare, soprattutto nel concerto a pianoforte, che richiama, tra l'altro, il pianista sull'oceano. Anche l'indugiare troppo su certi aspetti introspettivi tra i cinque circensi, che anche tra i partigiani, ha reso il film un po' lento da mandare avanti in certi frangenti iniziali. Avrei preferito stacchi con azioni o battute di alleggerimento più spesso e più diluiti nel film. Invece questi arrivano maggiormente nel finale. Ma ci può stare, e in fin dei conti sono i cinecomic che ci hanno abituato male. Mi sa che è giunto il momento di trarre qualche conclusione prima di passare ai dettagli di trama con gli spoiler. Ci troviamo davanti ad un'opera complessa, da vedere sotto più punti di vista. Una storia fantasy di crescita, di accettazione, dello strano e di autodeterminazione. Ma che è anche una storia cruda, truce e realistica, che richiama fatti reali del nostro, non più troppo recente, passato. Un film che sembra fare il verso a film noti, citandoli appunto, ma oggi si dice omaggiandoli in diversi modi. Se vi sono piaciuti La Vita è Bella, Gli Avengers, Bastardi Senza Gloria, ma anche il Joker, sappiate che probabilmente vi piacerà anche questo film. E soprattutto rivedete tante cose di quei film e mi fermo qui per non fare la lista troppo lunga. Ah giusto, stavo per dimenticare, non è certo un film per bambini e anzi anche per dei dodicenni magari, è meglio se accompagnati, che in effetti non ho mai capito che vuol dire. Cioè, un adulto con il ragazzino e la scena risulta quindi meno cruda? I misteri. Se avete notato, non ho citato per nulla, lo chiamavano Gig Robo, e l'ho fatto volutamente per non mettere in rapporto due film di maionetti molto diversi tra loro che non ha senso confrontare se non come esempio di un bel cinema italiano che sicuramente ha avuto e avrà più fortuna all'estero che in patria. Ho lasciato la trama per la fine visto che se siete qui almeno un trailer o qualche sinossi l'aveste già vista, spero almeno. E poi perché la trama e l'intreccio sono le cose più importanti di una storia e quindi anche di un film. Ma sono anche le ultime cose che si vuole sapere nel dettaglio. Meglio scoprirle mano a mano e non prima di vedere tutto. Quindi, prima di andare oltre, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e se già non lo avete fatto, attivate la campanellina così da poter rimanere aggiornati con i miei nuovi video e potermi quindi venire subito ad infamare nei commenti come stanno già facendo alcuni che pensano che io voglia solo visibilità dimenticandosi che talvolta, ma sempre più di rado, le persone possono avere opinioni differenti dalle loro. Voi invece, da bravi M.T. Ayers, però spammate a più non posso questo video tra le vostre conoscenze e andate subito in sala a vederlo. Adesso è il momento della trama. Si inizia con uno spettacolo di questi circensi introdotto da Israel che ci presenta ogni singolo personaggio e la sua caratteristico potere. Abbiamo Fulvio, l'uomo lupo superforte, Cencio, un ammaestratore di insetti, Mario, che è un uomo dotato di magnetismo e infine Matilde, che è dotata dell'elettricità. Successivamente viene introdotto il cattivo della storia, Franz, un pianista con sei dita che vuole però servire l'esercito nazista e ha messo su il cinema berlino a Roma per reclutare questi esemplari e offrirli al suo amato Führer. La trama si mette in moto quando Israel viene catturato dai nazisti e deportato e Matilde vuole andarlo a recuperare. Inutile dire che con la trama siamo arrivati al massimo concesso senza spoilerare ed è quindi il caso di cambiare colorazione e sollevare l'avviso di pericolo per eccellenza lo spoiler alert. Ora posso sentirmi libero di parlare nel dettaglio. Con cosa volete partire? Facciamo che parto io e iniziamo col botto, non quello iniziale del bombardamento a fine spettacolo dei circensi che ammetto essere stato un colpo di genio per cambiare ritmo e far capire subito allo spettatore che tipo di film stava guardando. Il tendone distrutto, la gente felice e divertita che in un lampo si trova morta o senza arti, un'immagine cruda e tragica di cosa significhi vivere in una zona di guerra girata bene con inquadrature vivide che ti bloccano al pensiero. Ecco, lo sapevo, volevo iniziare con altro e mi sono fatto prendere dalla foga. Non ci siamo più. Quello da cui volevo iniziare era il tentato stupro di Matilde da parte di due guardie naziste. Dai su, ammettetelo anche voi che in quella scena avreste voluto che fosse qualche cos'altro ad ustionarsi pesantemente e non la mano del nazista. Dai su, non fate i timidi, ditelo apertamente. Quello che proprio non mi aspettavo, perché è estremamente poco sfruttato dalla narrazione supereroistica, è stato scoprire che Franz riusciva a vedere il futuro. Boom! Quello mi ha letteralmente fatto esclamare cavolo grande, ecco una bella trovata, ma è stato bello anche il modo in cui hanno trattato l'argomento non dandogli chissà che vantaggio tattico e soprattutto facendolo passare per un passo a quelli a cui lo raccontava. Il plus dei mashup musicali che suona al piano con le sue sei dita è stata poi un'altra bellissima trovata, inutile dire che sia presa e rielaborata da un film come Yesterday, però l'ho trovata molto più sensata in questo contesto. Insomma, la parte di Franz credo sia stata la più curata dopo quella di Matilde ed in effetti sono loro due indubbiamente i protagonisti. Franz, che cade sempre più nella voragine dei suoi desideri e dei rapporti con la vita come un Joker e Matilde che invece matura affrontando i suoi incubi il fatto di non essere toccata, di perdere Israel e soprattutto di dover mettere a nudo il suo passato e le sue paure. In questo il gruppo dei partigiani storpi è perfetto per stimolarla non solo menandola ma anche facendo vedere donne che non avevano paura e a mettersi in gioco per salvare il loro paese e anche gli altri esiliati della società che però lottavano ugualmente per essa. Su questa parte come ho detto ha calcato molto la mano e ci sta però avrà un po' tagliato visto che certo pubblico non gradirà sicuramente. Una piccola chicca di questo gruppo però per me è indubbiamente il cecchino tedesco che lotta con i partigiani. Ci ho pensato un po' su e ho una mia teoria visto che sembra dimostrare di avere più di una personalità perché non pensare che in realtà sia lui un italiano ma con poteri ESP e collegato a persone che ha magari ucciso magari mi sono fatto un viaggio ma sarebbe stata una bella trovata anche se buttata lì. Una pessima trovata invece per me è stata il lancio dal cannone del circo nel senso che è stato come schiaffeggiarmi per dire guarda non siamo nel plausibile ma in una fiaba con questo film. Peccato avrei lasciato più nebulosa la cosa ma in effetti a persarci c'era pure altro. L'assalto al treno invece è stato per me il giusto mix di azione e parti comiche oddio hanno ucciso persone ma quando hanno sfondato il tetto con l'attacco con le api e gli altri superpoteri a me è piaciuto molto e ha ricordato una trasciata come Wild Wild West. Infine veniamo alla battaglia finale una scena bellissima e degna di film del calibro di Salvate il soldato Ryan ottimo giro di camera con scene dettagliate i morti dalla parte nazista e dei partigiani la lotta per salvare gli ebrei nel treno in cui i quattro si buttano senza tirarsi indietro e infine gli effetti speciali legati a Matilde che va in berserke e non solo fa da scudo bloccando tutto ma fa esplodere la sua energia riducendo tutto in cenere ed è qui che le strade si completano degnamente Franz che si rende conto di aver sbroccato perdendo tutto quello di buono che già aveva per assurdi ideali e che si spara davanti a una ignuda Matilde che lo guarda con pietà e tristezza senza voler infierire su di lui perché non voleva uccidere nessuno ma solo difendere se stessa e le altre persone indifese da lì la chiusura verso l'alba con i due che reggono il moccolo ed è troppo stile western e ha chiuso degnamente assieme ai titoli di coda con i bozzetti dal futuro disegnati da Franz insomma un film di spessore che ha trattato tematiche pesanti in maniera totalmente trasversale rispetto a come se le si poteva aspettare non vedo l'ora di compararlo in blu-ray e ora mentre voi commenterete metterete like io vado a vedermi le recensioni di quelli più grossi di me che come minimo diranno l'esatto opposto di quello che ho detto io alla prossima MT Ayers ciao ciao